Esodo, capitolo 3, verso 1. Mosè pascolava il greggio di Gietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il greggio oltre il deserto giunse alla montagna di Dio, a Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma? Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, toglieti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse, ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo, che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorrei, i Feressei, gli Ivei, i Jebusei. E ora, ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me. E ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse, va, perché io sono con te, questo sarà il segno, che io sono con te e che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Amen alla parola del Signore. Mosè, i suoi primi quarant'anni, alla corte di Faraone, diremo oggi alla Casa Bianca, o se più vi piace nel Cremlino, una superpotenza dell'antichità. Un luogo dove il Faraone aveva il diritto di vita e di morte su tutti. E lì Mosè cresce come il figlio della figlia di Faraone, un principe fra i principi. Poi apprendiamo dalla scrittura che un giorno, camminando fra i suoi connazionali, interviene per far valere il diritto di un ebreo che veniva sopraffatto da un egiziano e uccide l'egiziano. L'indomani troverà due ebrei che contendono fra di loro e lui cerca di arbitrare. E gli ebrei gli dicono, vuoi uccidere noi come ieri hai ucciso l'egiziano? Questo produce un panico, spavento, paura nel cuore di Mosè, che scappa via, che lascia l'Egitto e va nel paese di Madian, va da dietro che diventerà suo suocero. I primi 40 anni di Mosè sono caratterizzati dalla forza fisica, dal potere politico, dal denare, dallo sfarzo di una corte. Un uomo che crede di poter fare del bene a Israele per la sua posizione sociale, un uomo che crede di poter fare del bene al suo popolo per il prestigio della sua persona, un uomo che deve imparare, un uomo che ha bisogno di una lunga scuola, un uomo che deve andare all'università del deserto per comprendere come essere strumento nelle mani del Signore. ed eccolo lì per 40 anni nel deserto, 40 anni, 40 anni. Sappiamo poco di questi 40 anni, sappiamo soltanto che li ha trascorsi indietro ad un greggio che non era suo, ma di suo suocero, sappiamo che nel silenzio di quelle sabbie ha avuto maniera, modo per destrutturare tutti i suoi pensieri, per annientare le sue convinzioni, per desertificare il suo io, per demolire la sua arroganza, la sua presunzione, nel silenzio del deserto, in questo luogo di morte era necessario che Mosè moriva a se stesso, era necessario che Mosè demolisse il suo vecchio uomo, era necessario, era indispensabile, perché fin quando Mosè continuava a confidare su se stesso, non poteva confidare su Dio. È necessario talvolta che il Signore ci porti nel deserto, che il Signore ci faccia stare nel deserto, ci dia lezioni nel deserto, affinché noi smettiamo di confidare sulla nostra razionalità, sulle nostre capacità umane, sul nostro vigore fisico, affinché smettiamo di confidare sulla carne ed impariamo a confidare sul Signore. Il deserto, luogo di serpenti, di scorpioni, deserto, assenza totale della vita, è lì a quella scuola, su quei banchi, che Mosè impara 40 anni, 40 anni, 40 anni, per comprendere, per capire, per polverizzare se stesso. Quattro nella numerologia biblica ci parla del Vangelo, i quattro Vangeli, i quattro punti cardinali, il quattro nella numerologia biblica ci parla di completezza e quella di Mosè fu una formazione completa, fu una formazione a 360 gradi e gli doveva essere formato, non puoi essere usato da Dio se non vieni formato alla scuola del Signore. Sembra che anche Gesù abbia passato 40 giorni di digiuno nel deserto e sicuramente Gesù non doveva essere formato. Ma se Gesù ha passato per quei 40 giorni, se il Signore Gesù ha passato per il deserto, ancora più noi dobbiamo apprezzare il deserto nel quale tante volte il Signore ci conduce per essere liberati da ogni infrastruttura mentale, da ogni condizionamento sociale, da ogni convinzione che ci siamo fatti stando alla corte di Faraone. Signore ti diciamo grazie per le sabbie coscenti, Signore ti diciamo grazie per l'assenza di acqua, Signore ti diciamo grazie per le vipere, gli scorpioni, i serpenti del deserto perché sono stati per noi e saranno per noi degli ottimi insegnanti. aiutaci Signore a capire, aiutaci a realizzare quello che vuoi dire ad ognuno di noi. Non disprezziamo i 40 anni nel deserto, non disprezziamo i giorni dell'aridità, non disprezziamo i giorni della desolazione perché in quelle fornaci, in quelle prove, in quei momenti difficili noi impariamo, noi impariamo a confidare nel Signore. Mosè, Mosè, in ebraico salvato dalle acque, ma Mosè non è un nome ebraico, è un nome egiziano e in egiziano Mosè significa figlio, figlio, Ramses, figlio di Ra, figlio del Dio Sole, Ramses, Mosè, Mosè, nel deserto, era un figlio senza padre, era un figlio in cerca di adozione, proprio come noi, pecore senza pastore, proprio come noi, in cerca di adozione e noi ringraziamo Gesù Cristo perché in Cristo siamo stati adottati dal Padre e oggi siamo figli di Dio. Gloria a Dio per il deserto, gloria a Dio per la prova, per la tribolazione, per le asprezze di questa vita, gloria a Dio per le sofferenze, per la malattia, gloria a Dio per come il sole è cosciente, gloria a Dio per come le sabbie scottano, gloria a Dio perché a quella scuola noi impariamo a confidare nel Signore. dice che era giunto alla montagna di Dio. Inutili sono le ricerche. A tutt'oggi non è stato identificato e localizzato geograficamente questo luogo e non ci interessa perché se il luogo geografico avesse avuto qualche importanza e qualche rilevanza sicuramente nella Bibbia avremmo trovato le giuste coordinate ma qui la montagna di Dio non è un luogo geografico, qui la montagna di Dio non è un luogo fisico, per noi la montagna di Dio è un luogo spirituale e pur stando in Europa, in Italia e non nel paese di Madian noi possiamo arrivare stasera alla montagna di Dio possiamo giungere alla montagna del Signore e qui per fede noi siamo alla montagna dell'Eterno alla montagna di colui che palla di colui che si rivela Mosè giunse alla montagna di Dio e vede vede una fiamma di fuoco in mezzo ad un pruno una fiamma che arde una fiamma che arde ma non consuma è un fuoco diverso quello che Mosè vede il fuoco che Mosè conosce è un fuoco che divora il fuoco che Mosè conosce è un fuoco che distrugge è il fuoco che viene dalla terra è un fuoco che annienta le cose è un fuoco che devasta ma il fuoco che viene dal cielo è un fuoco che purifica ma non consuma signore manda questo fuoco stasera in mezzo a noi manda il fuoco dello Spirito Santo si avvicina si avvicina al pruno al pruno che ardeva e non si consumava e il Signore lo vede e gli lo chiama per nome Mosè Mosè oh il Signore Dio conosceva il suo nome lui pensava di essere diventato un immisibile oh probabilmente aveva saputo nascondersi allo sguardo di un farone arrabbiato di un farone che chiedeva vendetta di un farone che lo voleva morto ma sicuramente non si era potuto nascondere allo sguardo del Signore io ti voglio dire che tu ti puoi nascondere allo sguardo degli uomini ma non ti puoi nascondere allo sguardo di Dio e stasera il Signore ti chiama per nome Mosè Mosè quanta dolcezza quanta dolcezza un Dio che chiama un Dio che desidera parlare con te fin dalle prime pagine della parola scopriamo che Dio chiama l'uomo Adamo Adamo dove sei Abramo Abramo e ora Mosè Mosè e stasera egli sta chiamando per nome proprio te lo voglio dire o non lo voglio dire lui ti sta chiamando per nome tu pensi di essere venuto alla montagna di Dio nella tua invisibilità tu pensi di essere giunto alla montagna di Dio per non rattristare un tuo genitore un tuo amico un tuo parente la tua fidanzata il tuo fidanzato oh non ha importanza perché sei giunto alla montagna di Dio e qui dal pruno ardente che Dio ti sta chiamando ti conosce ti chiama per nome ti chiama per nome ci piace la prontezza di Mosè e gli rispose eccomi i quarant'anni di deserto lo avevano formato i quarant'anni di deserto lo avevano reso adatto e gli sapeva rispondermi con leccomi che ha sempre caratterizzato i profeti di Dio e lo stesso Gesù nostro Signore innanzi che i tempi iniziavano a scorrere innanzi che la storia si fosse formata innanzi che i pianeti iniziavano a girare nelle loro orbite innanzi che gli universi fossero nati qualcuno disse chi manderò chi andrà per noi e Gesù rispose eccomi mandami Signore stasera vogliamo dare la medesima risposta quella risposta che ti rallegra quella risposta che ti fa sorridere quella risposta che tu ami udire dai tuoi figlioli e noi diciamo eccoci Signore mandaci perché noi andremo ovunque tu ci vorrai e diremo le cose che tu ci detterai non ti avvicinare qui togliti i calzari perché il luogo su quale stai è suolo sacro alla montagna di Dio non c'è suolo profano alla montagna di Dio c'è suolo sacro alla montagna di Dio devi rinunciare al diritto di calpestio devi toglierti i sandali devi rinunciare al diritto di proprietà devi riconoscere che stai sulla terra del Signore non puoi continuare a tenere i sandali della tua razionalità non puoi continuare a tenere i sandali del tuo orgoglio della tua arroganza non puoi continuare a tenere i sandali che hanno protetto il tuo piede devi toglierti quei sandali devi rinunciare a quei sandali Signore noi togliamo i calzari perché vogliamo toccare con la pianta del nostro piede tutto ciò che è sacro e non vogliamo che nulla ci divida dal sacro toggeti i calzari perché il luogo dove tu stai è sacro è vero che siete tutti connessi col predicatore o siete connessi alla rete il Signore ti guarda il Signore gli rivela il piano il Signore gli rivela il suo progetto e come sempre i piani di Dio i progetti di Dio sono piani i progetti d'amore di misericordia io ho visto ho visto l'afflizione del mio popolo e ho udito e ho udito il grido che i suoi oppressori gli tirano gli sganciano noi diciamo Signore le nostre sofferenze non ti sono occulte tu vedi e odi tu vedi e odi il nostro Dio non è come certe statue che hanno occhio e non vedono hanno orecchio e non odono il nostro Dio vede e ode ma soprattutto il nostro Dio agisce e gli interviene e gli interviene io sono sceso io sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani ti piace questo Dio che scende a me piace questo Dio che scende lui sa che noi non possiamo salire allora è sceso da noi per farci salire con noi gloria al Signore vedete lo dice chiaramente sono sceso per liberarlo e per farlo salire nel paese in un paese buono e spazioso oh schiavo schiavo del faraone quanto riuscirai a salire in un paese buono e spazioso di per noi stessi non potremmo mai conquistare il paese buono e spazioso non riusciremo mai a salire ma gloria a Dio perché Gesù è sceso e noi con Gesù saliremo ci crediamo fratello figlio di Dio si è fatto figlio degli uomini per permettere ai figli degli uomini di diventare figli di Dio mi avvio alla conclusione chi sono io per andare dal faraone chi sono io ha capito tutto dopo 40 anni di deserto ha capito tutto ti stai facendo la stessa domanda perché se non ti stai facendo la stessa domanda non hai capito nulla fin quando non ti interroghi sulla tua identità fin quando non capisci di essere niente allora non potrai essere uno strumento nelle mani del Signore chi sono io ti stai chiedendo chi sei nell'Eden il Signore chiamò Adamo la nostra traduzione dice che chiese dove sei altri propongono cosa sei Dio che chiama Adamo dopo la caduta e gli chiede ora cosa sei dove sei in quale spazio sei dove ti sei allontanato dove sei caduto e una volta che ti sei allontanato e una volta che sei caduto nel baratro dimmi cosa sei cosa sei se non un derelitto cosa sei se non un salariato con la morte cosa sei se non un predestinato all'inferno cosa sei farò l'avone aveva fatto del bene involontariamente a Mosè lo aveva mandato nel deserto e nel deserto Mosè aveva capito di non essere nulla niente e ora dice al Signore cosa sono chi sono io e il Signore gli rivela il suo nome Dio disse a Mosè io sono colui che sono io sono colui che sono il Signore rivela il suo nome a Mosè Mosè chiese se faraone mi dice chi ti manda che gli dirò e il Signore gli rivela il nome tu gli dirai colui che era che è e che sarà mi manda ma c'è qualcosa di glorioso nel nome del Signore qualcosa che non riusciamo a tradurre in italiano in ebraico il verbo essere non è mai copula in italiano noi diciamo la casa è buona il ragazzo è tranquillo e in quel caso il verbo essere diventa copula ma in ebraico non c'è questa possibilità quando in ebraico si vuole esprimere questo concetto si dice la casa buona il ragazzo tranquillo in ebraico il verbo essere è un verbo che ha un'altra funzione quando Dio dice io sono colui che era quando Dio afferma io sono colui che sono io sono colui che sarò egli implicitamente sta dicendo altro perché in quel verbo c'è altro io sono per essere con te io sarò per essere con te io sono stato per essere con te e io ti dico che il Signore è per essere con noi ecco chi ci manda colui che ci accompagna alziamoci glorifichiamo il nome del Signore glorifichiamo il nome del Signore inalziamo il nome di Gesù fratello fratello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti